La guerra fredda Il blocco occidentale, quello che sostanzialmente ha vinto, era fondato sull'economia capitalistica di mercato, si stringeva attorno alla potenza degli Stati Uniti, aveva una propria alleanza militare, la Nato o Patto Atlantico e propugnava regimi di democrazia liberale fondati sulla libertà dell'individuo anche se poi paesi capitalistici di mercato ovviamente si aggregavano al Patto Atlantico anche se erano paesi non liberi, anche se erano paesi non democratici. Dall'altra parte l'altra potenza trionfatrice alla fine della Seconda Guerra Mondiale è l'Unione Sovietica che attorno a sé aveva i paesi che aveva liberato durante le operazioni della Seconda Guerra Mondiale e che avevano acquisito sistemi politici socialisti e che si riunivano attorno alla idea di una economia di Stato, di una proprietà collettiva attraverso lo Stato dei mezzi di produzione, su sistemi politici definiti democrazie popolari e su un'alleanza militare, il Patto di Varsavia. Questa contrapposizione ha diviso il mondo per quegli anni ma riprendeva una divisione precedente. L'Unione Sovietica era stata considerata un simbolo delle idee comuniste e socialiste nel periodo tra le due guerre mondiali, aveva rappresentato uno spauracchio per le potenze capitalisti occidentali che l'avevano contrastata in ogni modo. Ora, l'Unione Sovietica aveva costruito un sistema illiberale fondato su una eguaglianza forzata che l'aveva trasformata rapidamente in un regime di polizia, in un regime dittatoriale a partito unico, in un regime totalitario per certi aspetti. E quindi quando il muro di Berlino è caduto e si è avviato lo sfacelo dell'impero sovietico, il mondo occidentale ha esultato inneggiando al trionfo della libertà. Ma non sono mancati, anche in quel momento a caldo, interventi che ponevano il problema del rapporto tra libertà e eguaglianza. Se è vero, nel 1989 ha vinto la libertà, la libertà individuale, la libertà come concepita dalle democrazie liberali occidentali, ma permaneva il problema dell'eguaglianza. La rivoluzione francese nel 1789 e negli anni successivi aveva sviluppato le idee di democrazia, era stata un elemento motore di tutte le rivoluzioni in Europa sulla base dei principi di libertà e eguaglianza. E anche fraternità, che non è soltanto un buon sentimento, ma significa che l'atteggiamento nei confronti della società deve essere collaborativo, cooperativo, solidaristico. Bene, libertà e eguaglianza propugnate dalla rivoluzione francese, l'Unione Sovietica ha portato alle estreme conseguenze l'idea di eguaglianza, negando per questo la libertà. Ma l'Occidente libero? Si era posto il problema dell'eguaglianza? In che misura era in grado di risolvere questo mandato della rivoluzione francese? Dunque la riflessione sulla caduta del muro può essere una riflessione sulle due Germanie. La Germania sconfitta era stata divisa in due parti, una parte occidentale occupata dagli angloamericani e dai francesi e la parte orientale occupata dall'Unione Sovietica. La fine della contrapposizione in blocchi della Guerra Fredda, che era stata una vera guerra, seppure non guerreggiata nel suo centro. Era una guerra perché era una contrapposizione aspra, che aveva il proprio centro in Europa e una propria periferia. E nelle periferie invece si combatteva, come in Corea, come in Vietnam. Ma si può guardare invece la fine della Guerra Fredda come il riproporsi sulla scena proletaria del rapporto tra libertà e eguaglianza, che era stato posto in modo violento, sbagliato, per mille motivi criticabile prima, ma che ora si riponeva al mondo. E non è un caso, forse, che dopo la fine dell'esperienza sovietica, con il pieno trionfo della libertà occidentale, col pieno di spiegarsi della economia di mercato di tipo capitalistico, le diseguaglianze siano aumentate. Grazie a tutti.